Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del Tg di Nettuno TV e Radio Nettuno. Benvenuto a chi ci sta seguendo attraverso il nostro sito www.nettunotv.tv. Sei giovani sono stati arrestati dalla polizia in una operazione contro la droga per lo spaccio in Montagnola. A fine rimanette sono stati tutti i cittadini stranieri tra i 18 e i 30 anni. Denunciato anche un minorenne mentre altre cinque persone sono state accompagnate in questura per accertamenti. L'episodio risale a giovedì. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate anche diversi quantitativi di droga scovati dalle unità cinofide. Gli arresti sono avvenuti anche nei pressi delle scuole Betti Giaccaglia che sono in Montagnola. Il prefetto di Bologna Matteo Piantedosi e il sindaco Virginio Mero l'applaudono a questi risultati. È anche riferimento alla lotta contro il degrado e contro lo spaccio di droga in via Boldrini. C'è stata un'ordinanza emessa proprio nei giorni scorsi e anche per quanto riguarda persone trovate in questa via in stato di ubriachetta. Sono 500 invece gli immigrati che sono attesi questo fine settimana all'hub di via Mattei. arriveranno scaglionati a seconda del porto di partenza. Gli arrivi quindi saranno tutti insieme. Dalla prefettura rassicurano che non ci sarà bisogno della tendopoli dietro il centro per realizzare la quale. Vediamo anche adesso le ruspe che erano in azione sono state attivate dell'operazione per realizzare una spianata capace di accogliere queste tende. Ma per questi 500 migranti non dovrebbe esserci bisogno anche perché in vista di questa nuova ondata si sta cercando di diminuire il numero delle persone che sono ospitate all'interno del centro che in questo momento sono 700. In ogni caso quindi queste persone che sono dentro, queste 700 persone, molti di esse andranno nei centri di seconda accoglienza. L'hub ricordiamo non è destinato a tenere persone per un lungo periodo ma appunto per identificarle e poi ricollocarle in altre strutture. Quindi si cerca di accelerare di accelerare questo processo in queste 500 persone. Quindi probabilmente saranno sufficienti le palazzine del lab e i moduli abitativi montati già nei mesi scorsi per aumentare la capienza complessiva del centro. Sul retro comunque si sta completando perché ancora la tendopoli in realtà non c'è. Si stanno completando le operazioni per spianare l'aria dove sarà possibile montare una tendopoli e contare così su una cassa di espansione per altri 300 profughi. L'hub quindi potrà tenere 1300 persone perché adesso è studiato per tenere al massimo un migliaio. In questi giorni verranno stesi gli strati di stabilizzato, poi arriveranno anche le tende e forse anche delle vere e proprie tensostrutture. Ma adesso torniamo in un'altra zona della quale parliamo dove spesso c'è degrado, la Bolognina, in particolare l'ex mercato ortofrutticolo e ciò che è stato incompiuto, la trilogia che c'è appunto in Bolognina. Nei giorni scorsi a riportare all'attenzione questa zona è stato il Presidente dell'Insieme Bologna, Manes Bernardini, non soltanto perché ci sono delle aree dove lo spaccio è molto presente, ma anche perché c'è quello che chi risiede in quell'area chiama un ecomostro. C'è un grande palazzo che doveva essere il fiore all'occhiello della Bolognina e che in realtà è rimasto incompleto e quindi perché la dita che doveva realizzarlo, una dita privata, è fallita. Ma Bernardini lancia qualche idea per recuperarlo. Sentiamo. È una struttura a grezzo quasi ultimata nella sua struttura portante che rappresenta l'ennesimo buco nero della trilogia navile. Qui il problema è che devono subentrare i compratori, quindi poco da fare da parte del pubblico. Occorre però riuscire a collocarlo perché se noi manteniamo fermi dei mostri di questo tipo sicuramente tutta la zona farà fatica a ripartire e soprattutto sono brutti i biglietti da visita. Io mi chiedo sempre, se cerchiamo dei privati che devono venire a vestire qua, arrivano, vedono l'XM24, vedono le macerie, luogo di tossicodipendenti, poi vedono situazioni di totale abbandono. Penso anche alle aree comunali dove magari non è stata sfalciata l'erba. Ci sono dei problemi e delle piccole opere di manutenzione ordinarie che renderebbero sicuramente più accattivante l'area anche in una prospettiva, ripeto, di rimesso sul mercato. Questi sono problemi che viviamo tutti, subisce anche poi la pubblica amministrazione, qui non c'è una grande responsabilità da parte del pubblico. Qui bisogna, ripeto, trovare l'idea, ragionare e cercare di essere anche dei bravi promotori anche in ambito internazionale perché non necessariamente deve essere venduta a investitori italiani. Sicuramente per la sua posizione logistica e vaccinanza alla stazione, il fatto che comunque potrebbe essere appetibile anche in un'ottica di ampie dimensioni territoriali. In 55 minuti siamo a Milano, sicuramente costa meno venire a vivere qua che vivere a Milano. Voltiamo decisamente pagina, apriamone una veramente molto belle. Bambini dell'area di Cernobil continuano a venire nella nostra regione per trascorrere un mese, due mesi o anche tre mesi di vacanza e così con grandi benefici per la propria salute. Hanno fatto visita nei giorni scorsi anche la sede dell'Assemblea Legislativa, ricevuta dai vertici istituzionali della nostra regione, dopo oltre 30 anni dall'incidente della centrale nucleare, quindi continua questa bella esperienza. A parlarcene e soprattutto a sottolineare il ruolo dell'associazionismo in questa bella operazione è Fabrizio Pacifici della fondazione Aiutiamoli a Vivere, coordinatore del mondo del volontariato nella nostra regione. Il ruolo del coordinamento di tutte le associazioni del mondo dell'associazionismo e del volontariato per quanto riguarda l'accoglienza è sicuramente determinante. Determinante per il beneficio che riesce a dare in termini di qualità della vita, di recupero, facendo riabilitazione, di recupero della salute da parte del bambino che in questi 30 giorni, 60 o anche di più, perché nel corso degli anni siamo riusciti anche a portare fino a 90 giorni l'accoglienza di questi bambini, riusciamo ad abbattere di oltre il 30% le radiazioni che hanno in corpo. Immaginiamo che dopo 30 anni ancora il movimento così forte, così importante, solitaristico, nato attorno al mondo dell'associazionismo e del volontariato, ancora oggi riesce a determinare un numero importante di bambini che vengono dalle zone contaminate nella nostra penisola. Oltre 15.000 bambini arrivano in tutta Italia, oltre 2.000 bambini arrivano qui in Emilia-Romagna, per cui noi siamo assolutamente contenti e abbiamo cercato insieme di lavorare insieme all'Emilia-Romagna, insieme alla regione Emilia-Romagna che oggi, questo giorno, ci si rincontra, si fa approfondimento e si riuscirà senz'altro a rinnovare, a dare rinnovata speranza a tutti questi bambini che noi accogliamo attraverso la disponibilità. Non dimentichiamolo che il mondo dell'associazionismo e del volontariato riesce a vivere solo e esclusivamente per il sostegno di tutte le famiglie dell'Emilia-Romagna. E c'è anche chi, 30 anni fa, era una bambina e che poi è cresciuta e continua a venire nel nostro paese per accompagnare le nuove generazioni. Si tratta di Natalia, che è anche la presente alla sede dell'Assemblea Legislativa, che ha portato la sua testimonianza. Sono venuta qua come una bambina, avevo 7 anni, ero piccolina e io ricordo quando sono scesa dall'aereo che ero tutta vestita proprio colorata, con pantaloncini corti e c'erano un sacco di italiani che io non capivo proprio cosa faccio qua. Avevo tanta, tanta, tanta paura. Ma poi sono stata molto bene qua, è già passati 20 anni che io tutti gli anni vengo qua sempre e adesso sono diventata un'accompagnatrice. Hai fatto un'esperienza all'interno di qualche famiglia e esistono ancora relazioni con questa famiglia? Sì, è Gabriella Giancarlo, è la mia famiglia che mi ospita, cioè lui è presidente di Helpful Children e lei è segretaria. Sì, stiamo sempre a telefono quando anche sono in Belorussia, sempre. Massimo è stato due o tre giorni quando non ci siamo sentiti. Hai altri fratelli o sorelle che hanno fatto questa esperienza? Sì, per adesso viene mia sorella che ha 7 anni, è appena compiuta 8 e è già seconda volta che viene in Italia. La prima è venuta l'anno scorso. Rimaniamo in tema di regione perché aumentano le risorse per rilanciare l'attrattività della nostra regione. La Giunta ha deciso di destinare ulteriori 5 milioni e mezzo di euro per finanziare progetti innovativi di riqualificazione turistica, commerciale e culturale. 3 milioni aggiuntivi andranno a sostenere le azioni del turismo, 2 milioni quelle del commercio e 500 mila euro invece le imprese culturali. Da inizio agosto, dopo l'approvazione dell'assessamento di bilancio, i nuovi fondi andranno a sostenere ulteriori progetti oltre ai 119 già finanziati, scorrendo così le graduatorie approvate nei giorni scorsi. Al momento sono appunto 119 le imprese emiliano-romagnole finanziate con gli attuali 15 milioni di euro dopo l'approvazione delle graduatorie del bando regionale pubblicate sul sito della regione nella sezione aggiornamenti sulle opportunità. Tra le imprese finanziate fino adesso con questi 15 milioni, ma appunto se ne aggiungeranno altri 5, 42 appartengono al settore ricettivo, quindi alberghe e campeggi, 44 al commercio e pubblici esercizi e 22 alla cultura, quindi sale cinematografiche, teatrali e musicali. Un passaggio invece sulla cronaca, ci sono anche 3 bambini, di 1, 3 e 10 anni, tra i feriti di un incidente avvenuto nella serata di ieri alle 23 e 15 sulla 14 a pochi chilometri da Imola. Il mezzo avrebbe perso il controllo carambolando e ribaltandosi fino al ciglio della strada dove avrebbe terminato la sua corsa. Coinvolta nel sinistro anche un'auto e feriti 7 in totale, 3 donne di 25, 36, 50 anni e un uomo di 50, oltre ai bambini già menzionati, sono stati ricoverati all'ospedale di Imola con feriti di media gravità dopo essere stati soccorsi da due ambulanze del 118. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia stradale di Bologna. Torniamo invece sulla regione perché in occasione del 37esimo anniversario della strage del 2 agosto, per ricordare le 85 vittime, saranno allestiti altrettanti spettacoli itineranti nella città con altrettanti autori, attori e autori che racconteranno le biografie di queste persone per farne rivivere in un qualche modo la storia. Per capire dove saranno questi spettacoli è stata studiata anche una mappa interattiva che si può trovare sul sito della regione. A spiegarcene, ma prima ancora andiamo a sentire il regista di questo spettacolo che si chiama Matteo Belli. Parte dal percorso interno e dal percorso esterno della stazione, poi che arriva fino al traumatologico, all'extraumatologico, che fu un luogo importante per ospitare i feriti e quindi lo ricordiamo con un narratore all'esterno. E poi si riparte da Piazza Ott'Agosto il terzo percorso, si arrivi in centro, ci sono dei bellissimi percorsi in centro, nel pieno centro storico, entriamo nel cortile di Palazzo d'Accurso, ci muoviamo fuori in Piazza del Nettuno, ci sarà un taxi appositamente offerto da Cotabo per ricordare uno dei tassisti coinvolti nella strage e poi ci si muoverà con percorsi che andranno uno molto lungo, molto ardito, che andrà da via Pietralata fino a via San Vitale, è un percorso molto particolare che taglia Bologna lungo la linea della via Emilia, quindi Ugo Bassi, Rizzoli per arrivare fino a passare da Piazza Santo Stefano e arrivare in un cortile interno di via San Vitale, poi ci sarà il percorso in zona universitaria da Piazza Verdi fino a via Bertoloni, poi ci muoviamo da Piazza Minghetti fino alla piazzetta adiacente all'abside di San Domenico che fu reinventata dall'architetto Zacchiroli e poi c'è il percorso che da via Castiglione arriva fino a Giardini Margherita e poi ci sono i percorsi esterni, diciamo così, da Righi al centro 2 Agosto in via Filippo Turati, il percorso del centro sociale Antonio Montanari che è la vittima più anziana della strage e alla fine finiremo con un cortile interno in via dei Amici su uno in piena Cirenaica. E come sono state preparate queste biografie? Ce lo spiega la storica Cinzia Venturoli. Ho scritto l'anno scorso le cartoline da cui parte questo progetto che sono basate esclusivamente sui documenti d'archivio. Quest'anno da quelle cartoline 85 narratori hanno scritto le 85 storie e hanno aggiunto delle azioni teatrali, quindi saranno dei cantastorie, saranno come le figure tradizionali che racconteranno la memoria e la storia, quindi c'è molto di chi li narrerà, sono loro che si sono impegnati in prima persona. Ricordiamo quali storie, chi sono queste vittime? Queste persone sono persone comuni che quel 2 agosto 1980 hanno avuto la sventura di essere in stazione perché magari avevano perso una coincidenza, perché i treni erano in ritardo, perché stavano andando al mare o erano andati a prendere qualcuno che veniva da altre città oppure lavoravano in stazione. E ciascuna di queste storie quindi viene raccontata in modo interattivo, insomma, per coinvolgere gli spettatori? Esatto, ognuno ha pensato a qualche, come dire, azione per coinvolgere gli spettatori che potranno seguire tutte le 85 storie oppure seguire i percorsi che noi suggeriamo in modo da riuscire a vederli tutti quanti, se vogliono, o qualcuno, scegliendo quelli che più li aggrada. Infatti ci saranno delle guide che noi stiamo ancora arruolando, diciamo, che accompagneranno come Virgilio, abbiamo pensato noi, i cittadini in questo percorso di conoscenza e di empatia, se posso permettermi, perché entrare nei panni di quelle persone ci fa capire meglio cosa è stata quella strage, che cosa sono anche le stragi che purtroppo continuano ad avvenire. Ed ora andiamo a parlare di Fico che dovrebbe inaugurare in quest'autunno, sono pronti infatti gli ambasciatori della diversità, in sostanza delle guide che dovranno accompagnare i visitatori tra cibo e animali. Ce ne parla Paola Balestra che è presidente di Confguide Ascon Bologna. Le nostre guide saranno quelle che forniranno i servizi di visita guidata ai turisti all'interno di Fico. Previo, ovviamente, preparazione che già abbiamo, perché a Bologna non possiamo non essere preparati sull'enogastronomia, saremo anche preparate, cioè verremo preparate qui localmente su proprio il sito Fico. E di quali visite sono? Si gusteranno proprio dei prodotti? Allora, all'interno di Fico elaboreremo insieme con l'organizzazione Fico dei percorsi proprio all'interno del sito che saranno sia sulla filiera sia tematici, dobbiamo organizzarli insieme comunemente. Poi, naturalmente, chi vorrà e speriamo che in tanti vorranno estendere l'esperienza anche in città dove anche lì abbiamo veramente un'offerta enogastronomica e culturale enogastronomica importantissima su Bologna. Quindi, ripeto, per noi è già parte integrante delle nostre visite, l'aspetto enogastronomico e ribadisco culturale, perché è una cultura per noi. Potrebbero aprirsi nuovi posti di lavoro? Quindi queste figure, avrete bisogno di più figure che facciano questo servizio? Sì, noi siamo sempre in continuo espandersi, perché, ripeto, 220 associati sono tantissimi e cresciamo ogni giorno, quindi ci saranno nuove guide. Noi siamo dei liberi professionisti, quindi in questo caso proprio lavoriamo autonomamente, guidati dalla federazione e dall'organizzazione di Fico. Ci fermiamo, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera con il Tg delle 19.15. Grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti.